PETROLIO Se l'affare va bene, tiriamo su i soldi per sapare la cooperativa e allora vedi i sorrisi. Michael William Lombele non si sbaglia mai. Quasi mai. Ogni socio deve versare 25 mila euro. E se il giacimento non c'è? Perdiamo tutto. Non ci sto. Io vado avanti da solo. Vuoi la guerra? Sono sempre stato sulle barricate. Mi si sono messi a litigare come due bambini. Almeno però tuo padre un sogno ce l'ha. Ti sei sempre l'ermanno, da qualunque parte sei. Ti ho portato dei disegni che ho fatto io. Comunque noi erano diversi, eh? Oh, a me questi qua sono tutti un po' coglioni. Noi pensavamo la stessa cosa di voi. Il petrolio non arriva. Sono rovinato. Mi fai dare mano. Quello ormai mi odia. Quanto ti serve? Ti è venuta fuori l'anima del petroliere. Ti strega come la maga Circe. A metterò la merceda! Spanisce all'alba. Come i sogni. Io faccio il paraculo. Così tu puoi continuare a fare il puro. Giuda! E io non ho mica capito. Allora, Ermanno, è petroliere o rivoluzionario? E adesso con Vafni. Benvenuti! L'instancabile Woody Allen ha già pronto un nuovo film. Non ci sono ancora dettagli sul titolo e sulla storia del film. L'unica cosa certa è che nel cast ci saranno Kristen Stewart, Bruce Willis e Jesse Eisenberg. Per Eisenberg questa è la seconda collaborazione con Allen dopo To Run With Love. Per la Stewart e Willis, invece, è il primo film con il grande regista. Quest'estate negli USA uscirà il prossimo film di Woody Allen, Irrational Man con Joaquin Phoenix ed Emma Stone. Aspettiamo ancora la data d'uscita italiana e io vi terrò aggiornati. E intanto scaricate la nostra app. A presto!